Le cronache di Peppa Pig Saltiamo insieme! Oggi, mamma pecora ha organizzato una festa in giardino Altro te, mamma pig? Con molto piacere, mamma pecora No, grazie, non sei il benvenuto! È una festa molto elegante Accanto alla festa in giardino, Peppa e i suoi amici stanno facendo Sceglia d'acqua! Fate attenzione agli schizzi! Non tutti vogliamo giocare con le pistole ad acqua, vero? Non lo so Scusa, mamma! Andiamo, Peppa! Scusa! Chi vuole ancora insalata? Abbiamo quasi finito i palloncini! Ci siamo quasi! Adesso me la paghi! Dite ciao al mio amichetto Lancia Schizzi! Ciao amichetto Lancia Schizzi! Susi! Mamma pecora sta facendo del suo meglio per mantenere la sua festa in giardino elegante Avresti delle carote? E asciutta O un ombrello! Non fare caso a me, faccio solo rifornimento Ma la battaglia con le pistole ad acqua sta diventando sempre più grande Ma ciao, cowboy! Ciao anche a te, cowboy! E sempre più fitta di schizzi Avete già mangiato qualcosa? Servitevi prima che il cibo sia finito Oh, cielo! E sta invadendo l'intero giardino! Oh, grazie! Persino la festa di mamma petra! E' pronto, Susi! Evviva! Meno male non ha piovuto Il meteo aveva previsto pioggia per oggi Oh, sapevo che sarebbe uscito il sole No, non volevo! Cercavo solo di... Volevo solo organizzare la festa in giardino perfetta! Scusa, mamma Mi sono data tanto da fare Per renderla perfetta Mamma Quando sarebbe bastato Comprare più palloncini Mamma pecora adora le feste in giardino eleganti Ma a mamma pecora Piacciono anche le battaglie d'acqua Oggi c'è una festa da ballo sull'autobus delle feste E tutti non vedono l'ora di ballare Sì! Sì! Beh, quasi tutti Vieni a ballare, Susi! No, grazie Va tutto bene? Sì È solo che non so come si balla questa canzone Oh, nemmeno io Mi sto solo muovendo a tempo con la musica Sì! Scusa Prova a saltare, Susi! Danny cane adora ballare questo tipo di musica Proviamo tutti insieme Vieni, Susi! Stai ballando, Susi! Sì! Prova questa mossa! Sì! Sei bravissimo, Danny! Non penso di riuscire a imitarlo, però Ti concede questo ballo, Susi? Con piacere! Peppa balla sui piedi di papà Pig durante un letto Susi, se balli sui piedi di tuo papà Non c'è bisogno di sapere come si balla Whiii! Ma io non ho... Facciamo un altro giro! Conosco questa canzone Ciao, allora Questa canzone è perfetta, Susi! Perché ti dice come la devi ballare Dobbiamo semplicemente seguire le istruzioni della canzone Ti faccio vedere Su, giù, gira in tondo, tieni il tempo e poi Se sei pronto a fare festa, balla insieme a noi Proviamo insieme! Su, giù, gira in tondo, tieni il tempo e poi Se sei pronto a fare festa, balla insieme a noi Su, giù, gira in tondo, tieni il tempo e poi Se sei pronto a fare festa, balla insieme a noi Sì! Ce l'hai fatta! Sì, grazie Peppa! Adesso tutti insieme! Sì! Su, giù, gira in tondo, tieni il tempo e poi Se sei pronto a fare festa, balla insieme a noi Sì! Nonna Pig non vede l'ora di scoprire la sua grande ed emozionante sorpresa Buon copriamo! Oh, ma che bello! Guarda, nonna! Devi soffiare la candelina ed esprimere un desiderio Oh, sì! Ma prima dobbiamo cantare la canzone degli auguri Ma certo! Anche auguri a te! Anche auguri a te! Oh cielo! Ha iniziato a piovere proprio sopra le loro teste Forza! Ripariamoci! Peppa e la sua famiglia decidono di continuare la festa nella serra Allora, al riparo dalla pioggia Molto meglio! Almeno così non ci bagniamo E la candelina è ancora accesa Oh, è vero! Ora soffio la candelina ed esprimo un desiderio Ma prima dobbiamo finire di cantare la canzone degli auguri Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Oh! Su quel tramezzino c'è una lumaca! Forse la serra non è il posto migliore dove mangiare Per fortuna ha smesso di piovere Presto, torniamo fuori! La festa della nonna si è spostata in giardino sotto l'albero di mele di nonno Pig Gelacchina, la mia preferita! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Ma noi stiamo celebrando una festa di compleanno, signor Toro! Non preoccupatevi, farò presto Al massimo due settimane Io ho un'idea! Coraggio, venite con me! Nonno Pig ha deciso di continuare la festa Nel volaio Ciao! Giannino, Sara, Vanessa Sono felice che partecipiate Possono cantare anche loro la canzone degli auguri Stochi attenti i capellini! Il vento ha buttato a terra tutto il cibo e le decorazioni Oh, noi volevamo fare una bella festa di compleanno per te e che esprimessi un desiderio Oh, Peppa Io voglio solo passare la giornata con tutta la mia famiglia E questo è il mio unico desiderio Davvero? Sì! E quella torta, a quanto pare, è ancora buonissima Sì! Nonna Pig ama festeggiare il suo compleanno in giardino Ma più di ogni altra cosa ama festeggiarlo con la sua famiglia Ciao! Ciao! Peppa è al negozio di palloncini con la sua famiglia Per ritirare un palloncino speciale per una festa in giardino Signorina Coniglio! Possiamo ritirare il nostro elegantissimo palloncino e gola... Che bello! Il negozio di palloncini è pieno di palloncini Signorina Coniglio! Oh, mi avete trovata! È da martedì mattina che mi sono persa tra i palloncini Ma sarà ora di pranzo ormai? È mercoledì, signorina Coniglio Comunque, ecco tutti i vostri bellissimi palloncini riciclabili Pronti per la festa Tutti questi? Ma ne avevamo ordinato solo uno Qui c'è scritto Mille palloncini per la festa di Mamma Pig Non ce ne servono così tanti e non voglio sprecarli Come facciamo adesso? Io lo so! Li possiamo regalare! Peppa e la sua famiglia regalano i palloncini in più a tutte le persone Che incontrano Uno a te Oh, grazie! E ne do uno anche a voi due Ecco a te Palloncino rosso Uno verde a te Preso Ne mancano solo 992 Non ce la faremo mai a darli tutti Oh oh, e dobbiamo andare a preparare la festa Mi è venuta una grande idea Prendete qualche palloncino e venite con me Oh, grazie! È l'ora della festa e tutti gli invitati iniziano ad arrivare Ciao Susi! Ecco i tuoi palloncini! Oh, grazie! La signorina coniglio ha usato i palloncini per trasformare la festa in giardino in una festa di palloncini La signorina coniglio sa fare qualsiasi cosa con i palloncini O chiunque! Ecco a te! È proprio come me! E questo assomiglia a me! Inizia la gara di palloncini! non preoccuparti se un palloncino scoppia perché ne abbiamo tantissimi altri tutti avrebbero amato la festa in giardino di mamma pig ma tutti amano ancora di più la festa di palloncini benvenuti agli annaffiatoi galleggianti oggi Peppa e la sua famiglia sono a una nuova attrazione al parco acqua la parca vi condurrà attraverso un giardino fiorito e voi dovete annaffiare tutti i fiori e come possiamo farlo? con questo molto meglio dei nostri annaffiatoi posso provare, mamma? ma certo ho un divertimento che tranquillo ai regioni io mi sento in pace dell'universo Peppa e George devono usare gli annaffiatoi per buttare l'acqua ai fiori che ne hanno bisogno ti aiuto io, George è un gioco difficile eccone uno pronti e... è il mio figlio ben fatto, George George ha spruzzato un fiore al primo tentativo è sempre più difficile non mi importa se ti sbaglio Peppa ha qualche difficoltà tranquillo se vuoi ti aiuto io come? cosa? dove sono? oh già ma tutto bene, Peppa? George sta spruzzando tutti i fiori e io no so che è difficile ma non c'è niente di male se George è più bravo in qualcosa ma io sono più grande guarda, io sono molto più grande ma tu sei più veloce di me e soffri di più di soledì a volte l'età non conta ciò che conta è lavorare insieme quando vogliamo insieme soffri ancora di più di soledì va bene George si è un po' spaventato tranquillo, George è solo un gioco e tu? basta così, fiore non sei stato per niente carino con il mio fratello ehi-ya ce l'ho fatta forza, George dobbiamo lavorare insieme sei proprio bravissimo ce l'abbiamo fatta bravissimi Peppa e George Peppa e George hanno annaffiato tutti i fiori adorano gli annaffiatoi galleggianti vedete? formate davvero una bella una bella squadra oggi peppa e la sua famiglia vanno a una gara di torte per la festa del paese non vedo l'ora di assaggiare le torte della gara che ci fa qui una scarpa? non è una scarpa è la mia torta Peppa questa è una gara in cui ognuno fa delle torte che sembrano altre cose ma nonna se le torte sono fatte come torte la gente si confonderà esattamente allora Peppa vuoi aiutarmi a scegliere la miglior torta che non sembri una torta vera? sì! che bello! Peppa cerca di ingannare papà Pig con una torta che sembra un telefono è una torta è molto divertente vuoi per caso una tazza di tè mamma? sì, grazie questo tè è fatto di torta la torta ti ha ingannata congratulazioni per la carota più grande grazie mi dispiace ma il premio era per la carota più grande non per la torta a forma di carota ma è un'ottima torta a forma di carota adesso il signor Toro deve assegnare il premio per la miglior torta che non sembra più la miglior torta che non sembra torta è questa a dire il vero è il mio pranzo oh, ma certo è vero in tal caso la vincitrice è questa oh oh è molto realistica no ma lui è George alla fine ci sono cascato e allora la vincitrice è questa mamma pecora ha vinto il primo premio questa sembra una torta al cioccolato ma in realtà è alla fragola oh Peppa puoi passarmi il trofeo? sì ecco il tro... anche il trofeo è una torta e ora tutti mangiano le torte a tutti piace mangiare torte che sembrano altre cose dove avrò messo il mio cappello? ah 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 e a tutti piace cadere in inganno oggi i bambini sono al laboratorio di ceramica per la festa di compleanno di Gerald Giraffa signor Toro non sono stato io davvero ciao a tutti venite con me cerchi di non rompere niente signor Toro potete dipingere qualunque oggetto in ceramica a vostro piacere l'unica regola è divertirsi sì io voglio dipingere una tazza per mamma e papà oh anche io anche io eppure che idea? Gerald Giraffa è molto bravo a disegnare oh sei bravissimo Gerald grazie Peppa che cosa disegni? emm disegno una giraffa anche io anche io eppure anche io oh tutti vogliono disegnare una giraffa proprio come Gerald come si disegna una giraffa Emily? non lo so io sto copiando Susi e io sto copiando Peppa e io sto copiando Gerald tutti gli amici di Peppa stanno copiando chi gli è vicino ecco fatto oh eh anche io ho finito sì anche io fatto mi è venuta storta anche la mia anche la mia storta perché il disegno è la copia di una copia vi divertirete di più disegnando quello che vi ispira oh 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 fiu scusi io dipingerò questo somiglia alla barca del mio papà e io dipingerò una ciotola per gli occhiali di mia nonna non so mai dove li ha messi io dipingerò una tegliera per la mia mamma con una grossa proboscis e io dipingerò una pozzanghera di fango per il mio papà ognuno dipinge qualcosa di unico e personale e tutti si divertono molto papà guarda il mio piatto guarda nonno guarda nonno l'ho fatto per te papà che bello Peppa somiglia proprio a una pozzanghera di fango a tutti piacciono i loro regali in ceramica oh potrebbe imparare qualcosa ai disegni dei bambini signorina coniglio ma non è me? oh d'accordo questa volta non è colpa mia si oggi Peppa e Emily Elefante sono in visita all'acqua park l'acqua sembra davvero alta si sarà divertente andiamo la sicurezza è molto importante quando si ha a che fare con l'acqua quindi dovrete indossare questi giubbotti di salvataggio la prudenza non è mai troppa siamo pronte signorina coniglio bravissime seguitemi tutti quanti divertitevi staremo a guardare il primo ostacolo è un ponte molto traballante vado per prima guarda così Peppa sta correndo il più velocemente possibile ma ops è caduta in acqua prova anche tu Emily è divertentissimo sembra molto traballante mattina oh wow ticking oh buon A ti ci hai fatto Emily click innovativamente ooooh oh oh corda per arrampicarti così bravissimo Peppa tocca a te Emily è troppo alto prova a scivolare da seduta Emily scendi piano piano così posso farcela? posso farcela? bravissimo! l'ultimo ostacolo è un percorso su dei grossi palloni gonfiabili magari lo faccio piano piano questo percorso come Emily sì! ci sono quasi riuscita ottimo tentativo Peppa puoi farcela Emily andare piano piano è stato un successo nei due ostacoli precedenti forse dovrei andare veloce come Peppa ma andare velocemente è la strategia perfetta per i palloni gonfiabili adesso la guarda ci sono un bel abbandonio si sei molto curadone ho troppa paura eccomi che arrivo si Oggi Peppa e i suoi amici sono in piscina Cosa farò con voi due? È il momento di tuffarsi in piscina Cosa sono quelli, Peppa? Sono i miei occhialini Mi aiutano a vedere sott'acqua come una sirena Ta-da! Puoi indossarli per il nostro gioco di oggi Si chiama Qua Qua Honk Come si gioca? Allora, un giocatore e il fenicottero Zoe, sarai tu il fenicottero Sì, sono il fenicottero E tutti gli altri sono papere Bravissimi! Ora tutte le papere nuotano nella piscina E quando il fenicottero dirà Honk Honk! Vuol dire che sta per catturare una papera Chi verrà catturato dovrà fare il fenicottero nel turno seguente Pronti? Via! Tutti si divertono a fingere di essere papere Ma adesso il fenicottero Zoe sta venendo a prenderli Sì, ti ho preso, Gerald Oh no! Adesso Gerald Giraffa è il fenicottero Honk! 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 Ti ho preso! Peppa e i suoi amici si divertono moltissimo a giocare a Qua Qua Honk Dov'è il fenicottero? Non voleva dire Honk! Qua Qua Qua! È il tuo turno come fenicottero, Peppa! Qua Qua! Qua Qua! Qua Qua! Sì, signorina Coniglio! Come facciamo a sapere chi ha vinto? Ti ho presa! Ah, per quello ci vuole un altro gioco Si chiama Gelatina sul piatto Forza, salite sopra! Chi cade per ultimo in acqua vince! Tutti salgono sul galleggiante Ma è molto traballante Proprio come... C'è la gelatina! C'è la gelatina! C'è la palma che traballa! E' la palma che traballa! Siamo caduti di sotto Allora vuol dire che... Tutti abbiamo vinto! A tutti piace giocare in piscina E a tutti piace vincere insieme Oggi Peppa e Mamma Pig Giocano agli autoscontri A Patata City Tanto non mi prendi Rebecca! Oh, sì che ci riesco! Vieni Peppa! Abbiamo trovato un gioco nuovo! È uno scivolo d'acqua! Vieni con noi! Dai! Adoro gli scivoli d'acqua! Scivoli? Mamma Pig non sa se le piacciono gli scivoli d'acqua Perché non andiamo su qualcosa che non faccia gli scivoli d'acqua? Come... Questa panchina! Oh, che bello! Questo possiamo farlo anche dopo! Vieni Mamma! Tutti sono arrivati al nuovo gioco acquatico Le cascate di sedano Occhio! Qui è tutto pieno di schizzi Ma proprio pieno! Sì, sì! Gli adulti davanti, grazie! Parlo con lei, Mamma Pig Si accomodi! Oh, certo! Va bene! Divertitevi! Non è niente male! Il sedano tronco sta salendo molto in alto Splish Splash Splash Dobbiamo fare Splash! Non tutti amano fare Splash! Yuhuuu! Volete fare un piccolo Splash? Un grande Splash? O un gigantesco Splash? Un gigantesco Splash! Sì! Molto bene! Pronti? Sì! Sì! Cinque contro uno! Sei parte! Le cascate di sedano sono molto veloci E fanno tanti schizzi Ecco qua! Finalmente è asciutto! E' stato incredibile! E con tanti, tanti schizzi! Mamma! Cosa fai ancora lì? Le cascate sono... fantastiche! Facciamo un altro giro! Ora Mamma Pig adora fare giganteschi Splash! Tutti adorano fare giganteschi Splash! Oggi Peppa e George vanno a giocare in un labirinto gonfiabile speciale! Andiamo un po' di fretta, quindi fate presto per favore! Ciao mamma! E non perdetevi! Il primo gioco è un grande castello gonfiabile! Ciao! Scusate, non possiamo giocare, siamo un po' di fretta! Andiamo George! Peppa è passata dall'uscita blu! Ma George, per sbaglio, passa per quella rossa! Questo è un tunnel gonfiabile! E c'è anche Susy pecora! Ciao Susy! George e io dobbiamo proseguire perché andiamo di fretta! Ciao! George! Questo posto è super molleggiato! Ciao Rebecca! L'uscita è da questa parte! Andiamo di fretta! Sì! L'uscita è là! Evviva! Siamo finalmente all'uscita! Sei stata brava Peppa! Dov'è George? Io pensavo fosse dietro di me! Forse si è perso nel labirinto! Perso? Dobbiamo trovarlo! George non si è perso! Si sta solo divertendo! Avete visto il mio fratello George? È andato! È da quella parte! Ma mamma Pig non sa rimbalzare bene come Peppa! Arriviamo George! Coraggio mamma! Cadere è tanto divertente quanto rimbalzare! Eccolo! Siamo qui George! Evviva! Ti abbiamo trovato! Adesso dobbiamo tornare a casa! George non vuole tornare a casa! Si sta divertendo molto nel labirinto volfiabile! Bene! Allora vediamo se riusciamo a prenderti! Peppa e George amano giocare nel labirinto gonfiabile! Preso! E adesso non voglio perderti mai più! Attenti là in fondo! Ora dobbiamo proprio andare! E piace anche a mamma Pig! Il gusto è... La fragola! È una giornata molto calda e la signorina Coniglio sta vendendo ghiaccioli e usando una ruota che gira per scegliere il gusto! Grazie signorina Coniglio! Fa così caldo che non c'è neanche più fango nelle bozzanghere! Ghiaccioli! Ghiaccioli! Mamma, papà, possiamo avere un ghiacciolo per favore? Non vedo perché no! Vorrà dire che ne avremo uno anche noi! Tutti vogliono uno dei ghiaccioli speciali della signorina Coniglio! Puoi scegliere un gusto o puoi girare la ruota! Posso girare la ruota, per favore? Sì! Banana! Oh, che buono! Grazie! Chi è il prossimo? Viva! Cioccolato! Grazie signorina Coniglio! Guarda Danny, sei finito tra due gusti! Limone e lampone! Tocca a te, Susy! Devo per forza girare la ruota! Posso averne uno al cioccolato, per favore? Ma certo! Susy, sa cosa vuole? Ed è giusto così! Un cono al cioccolato in arrivo! Oh no! Abbiamo finito il cioccolato! Oh, non fa niente! Ho un'idea! Puoi avere il mio ghiacciolo al cioccolato! Grazie, Peppa! Sei stata molto gentile, Peppa! Anche io sono gentile! Puoi avere il mio ghiacciolo, Peppa! E io sono gentilissimo! Puoi avere il mio ghiacciolo, Pedro! Grazie! Peppa! Tutti vogliono essere gentili e offrire il loro ghiacciolo! Che ne dite se ne faccio semplicemente un altro? Attorno subito! La ruota della signorina coniglio è molto veloce! Ma anche la signorina coniglio... Tra qui, ruota! Torna qui! Rallenta! Rallenta! Va troppo caldo! Oh, sono tornata! Devo solo... Riprendere... Fiato! La signorina coniglio ha molto caldo! Dovremmo dare i nostri ghiaccioli alla signorina coniglio per aiutarla a rinfrescarsi! Ecco qua! Si, si, si! Oh, i ghiaccioli si sono sciolti al sole! Sarà meglio che prepari altri ghiaccioli e che li mangiamo prima che si sciolgano! A Peppa Pig piace mangiare un ghiacciolo quando fa caldo! A tutti piace un ghiacciolo quando fa caldo! Stasera, mamma e papà Pig vanno a cena fuori per la festa di San Valentino! Mamma Pig ha prenotato un taxi! È quasi arrivato! È viva! È viva! La vostra auto vi attende! Mamma Pig ha prenotato un taxi speciale per spaglio! Si chiama Limousine! Un allimo! Che romantica! E solleticante! Dove andiamo, signore e signori? A casa di nonna e nonno Pig, la ringrazio, signorina coniglio! Peppa e George mangeranno là! Mangiare! A casa di nonna e nonno Pig, la ringrazio è un ghiacciolo! Va bene, calmate! Questa musica mi ricorda a Venezia! Fu un viaggio veramente meraviglioso! ora è il biscottino questo non c'era a venezia vuoi un cioccolatino mamma pig? non ti dispiacerà possiamo mangiarne qualcuno? cioccolato va bene ma non troppo Peppa e George adorano il cioccolato forse un po' troppo allora mangerò questo qui possiamo rimetterli la disco music? sono fino a casa di nonno e nonna ti prego ciao felice san valentino ballerino a tutti balliamo forza oggi è un san valentino ballerino come quella volta a parigi nonno pig tutti amano festeggiare il giorno di san valentino ma mamma e papà pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco lì oggi Peppa e i suoi amici visitano la fabbrica del dentifricio ed è così che si fa il dentifricio tutto chiaro? beh è più importante sapere come ci si lavano i denti seguitemi la fabbrica del dentifricio ha giochi molto belli per insegnare a tutti come lavarsi i denti posizionate il tubetto poi premete il pulsante per far uscire il dentifricio necessario e qual è la quantità giusta? mi basta poco poco bravissimi! volete provare? una porzione di dentifricio perfetta ben fatto! Peppa è bravissima a questo gioco ma George è un po' confuso non così George ti aiuto io ma messo sullo spazzolino non in bocca bravissimi tutti quanti venite con me ora spazzoliamo i denti per farli risplendere dobbiamo eliminare tutto il cibo via 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 fatto! bene! ora tocca a voi forza con quello spazzolino fatemi brellare Peppa è brava anche a questo gioco ma George è di nuovo confuso no George devi spazzolare i denti giganti non i tuoi guarda fai così bravissimi! i denti adesso sono di un bianco splendente rimane solo una cosa da fare lo spazzolino va sciacquato sotto l'acqua così pronti? attenti! questo gioco piace molto a tutti ma George sta puntando l'acqua verso se stesso puntala da quella parte George verso lo spazzolino perché piangi George? ah! vuoi lavare i tuoi di denti? George non era confuso voleva semplicemente lavarsi i denti tranquillo George ci daranno in omaggio spazzolini dentifrici e altre cose vero signorina coniglio? no! oh! oh! sì! degli omaggi! ma certo! come no! aspettate un momento ci ho messo un po' di cose ecco qua grazie! grazie signorina coniglio mi raccomando George ne basta poco poco poi spazzoli i denti e sciacquo a George piace lavarsi i denti a tutti piace lavarsi i denti oggi Peppa e Susi giocano nella casa sull'albero oh! ciao Susi entra pure vieni oh! grazie sei gentilissima giocano a fare le adulte adesso ci beviamo una bella tazza di tè oh! è proprio brutto il tempo oggi non è vero? qualcuno ha bussato alla porta scusate l'interruzione la tua mamma è venuta a prenderti cara Susi oh! ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero? ti prego oh! ehm certo che potete tu e Susi potete dormire nella casa sull'albero e io e nonno pig dormiremo in una tenda qui sotto che città! Peppa e Susi sono molto felici di dormire nella casa sull'albero ecco i vostri sacchi a pelo i cuscini e un sacco di morbidi peluche e la cosa più bella una lanterna stellata speciale wow! che bella! ho finito! oh! chissà cosa serviranno questi anche nonno pig è felice di dormire in tenda forse mi sono sbagliato ma prima deve rimontarla è ora di andare a letto quindi nonna e nonno big entrano nella tenda buonanotte tesorini noi siamo qui se avete bisogno guarda Susi la mia ombra è grandissima la mia è un uccellino e la mia è una farfalla un rumore fortissimo nonna pig vieni sull'albero c'è qualcosa che non va? abbiamo sentito un rumore forte come? santo cielo è un mostro non c'è nessun mostro è il nonno pig che sta russando peppa e Susi amano dormire nella casa sull'albero anche con nonno pig che russa nelle vicinanze oggi peppa è una scienziata? benvenuti al museo della scienza ah! peppa e i suoi amici sono al museo della scienza con la signorina coniglio mi serve il vostro aiuto per risolvere qualche rompicapo scientifico ora dobbiamo capire come costruire un ponte per questa macchinina usando soltanto questi materiali oh! che cos'è? guarda quante cose oh! stecchi! sarò il più veloce a costruire il ponte forse ci vuole qualcosa di più resistente oh! un cubo! secondo me ci vuole qualcosa di più leggero così che galleggi proviamo con questi peppa sta provando a usare gomma piuma per costruire il ponte sì! la gomma è così leggera da galleggiare ma sorregge il peso dell'auto Eureka! cosa vuol dire Eureka signorina coniglio? oh! noi scienziati esclamiamo Eureka quando facciamo una scoperta provate anche voi Eureka! il prossimo rompicapo è sui colori cerchiamo di scoprire tutti insieme come far diventare madame gazzella verde oh! sei diventata blu! oh! dobbiamo trovare una lente verde in cui guardare oh! oh! ehm... ma non ci sono lenti verdi oh! ma con il giallo e il blu si ottiene il verde oh! Eureka! esatto! mescolando i colori se ne possono ottenere altri Peppa e i suoi amici sono pronti per l'ultimo rompicapo scientifico possiamo fare lo scivolo signorina coniglio? sì! dobbiamo capire quale tra gli scivoli è il più veloce dividetevi in coppie Peppa e i suoi amici prendono un sacco per coppia e scelgono lo scivolo pronta? via! lo scivolo con l'erba è troppo ruvido per essere veloce ta 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 lo scivolo con il tessuto è ancora più ruvido e ancora più lento pronti? ma lo scivolo in plastica è molto liscio e quindi è molto veloce bravissimi! avete risolto tutti i rompicapo nelle scienze si dice fare un esperimento e come si dice quando si è trovata la soluzione? è ripresa! eh! madame gazzella? come facciamo a scendere? a tutti piace fare esperimenti oggi Peppa e George stanno cercando di costruire uno scivolo cosa fate? abbiamo costruito uno scivolo papà ma non è molto scivoloso ah quando ero piccolo crei un grandissimo scivolo sulla collina di fronte casa quello sì che era scivoloso oh sto arrivando sono in ritardo per la riunione dei vigili del fuoco mamma mamma papà costruirà un grande scivolo sulla collina beh no ho solo detto ottima idea devo scappare a più tardi allora è ufficiale peppa, george e papà pig usano dei lunghi teli per costruire lo scivolo non è scivoloso allora ci serve del sapone per piatti e dell'acqua tadaaa oh spedio oh spedio deve essere scivoloso il sapone per piatti e l'acqua hanno reso il telo molto scivoloso proprio come me lo ricordavo facciamo un altro giro tutti si divertono molto sullo scivolo insaponato ci so ancora fare e tutti insieme ma adesso la collina è così scivolosa che nessuno riesce a risalire mamma pig è tornata dalla riunione dei vigili del fuoco giusto in tempo grazie del passaggio c'è nessuno ma che cosa ci fate laggiù? siamo bloccati siete infangati? no cosa è successo? qualcosa con il fango? siamo bloccati sembrano bloccati bloccati? giusto andiamo a soccorrerli ops attrappatevi all'idrante grazie non c'è problema siamo qui per questo fermiamo l'idrante ops siamo di nuovo bloccati a tutti piace lo scivolo insaponato soprattutto quando c'è una pozzanghera di fango in fondo allo scivolo oggi peppa è in maschera per la festa a tema spazio di susy pecora sull'autobus delle feste un altro atterraggio sicuro ci sono tante cose da fare sull'autobus ha visto susy? sono io susy non sono un'aliena vera e io sono un robot e io ho una stella e io ho una principessa dello spazio benvenuti a bordo tutti quanti siete pronti per la festa nello spazio? c'è una pista da ballo spaziale del cibo spaziale e ovviamente ci sono giochi spaziali chi vuole giocare affassa il regalo nello spazio quando si ferma la musica potete scartare uno strato del pacchetto è che a te, Danny evviva! oh no! le mie mani robotiche non riescono a spazio oh non c'è problema abbiamo tanti giochi per robot come afferra la stella cadente siete pronti? sì! pronti? via! c'ero quasi! lo prendo io! lo prendo io! ops! facciamo un altro gioco metti l'occhio sull'alieno oh! posso provare io? mettiamo una benda così non puoi spirciare pronta? vai! scusa! scusa! mi sta proprio bene non c'è niente che gli astronauti e gli alieni e le stelle e i robot e le principesse possono fare insieme se tutti si allacciano le cinture possiamo decollare tra tre... due... uno... tre... tre... oh sì! io adoro volare nello spazio! questa è un disco volante! a tutti piace l'autobus delle feste è un alieno con un robot e quello è un astronauta! e a tutti piace sfacciare nello spazio oggi Peppa e la sua famiglia sono al museo a una mostra sui dinosauri scusate non volevo spaventarvi è così che i dinosauri dicono ciao allora volete vedere un dinosauro vero? nella nostra nuova sala si può andare indietro nel tempo e avere la sensazione di incontrare i dinosauri dinosauro! 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 credo voglia dire sì grazie signora Gognita la sala del viaggio nel tempo porta nel passato quando i dinosauri esistevano ancora attenzione! vogliamo essere certi che viaggiate in tutta sicurezza d'accordo? mani e piedi devono restare dentro la macchina per tutto il tempo se volete guardare da più vicino potete usare questi binocoli speciali e mi raccomando non dovete calpestare le farfalle ma nessuno calpesterebbe mai una farfalla signorina conino non si sa mai Peppa comunque si parte la macchina del tempo sta affettando tutti a un'era in cui esistevano ancora i dinosauri tanto tanto tempo fa ci siamo! guarda ha funzionato! guarda ha funzionato! certo che si! nella giungla dei dinosauri ci sono molte attrazioni guardate un vulcano e tantissimi sterodotti di volanti come sono belli! ma c'è soprattutto una sola cosa che George vuole vedere dinosaurio! dinosaurio! arriverà presto ma ricorda i dinosauri veri erano molto più grandi di quello George siete pronti? oh caspita! il dinosauro è più spaventoso di quanto George avesse immaginato è scaduto scusa George il mio amico dinosauro non voleva spaventarti è così che i dinosauri dicono ciao ti ricordi? forse dovremmo ruggire anche noi per salutarlo vero? così capirà che siamo amici e la cosa bella dei viaggi nel tempo è che possiamo sempre tornare indietro sei pronto per riprovare George? preparatevi! pronto George? uno due tre ce l'hai fatta George! George è molto contento che Peppa l'abbia aiutato a prendere coraggio lo vuoi fare di nuovo? d'accordo allora e George è davvero felice di aver incontrato un dinosauro dinosauro! oggi mamma Pig porta Peppa e George a fare una visita speciale al negozio di giocattoli ciao! sto cercando una mamma con due piccolini a cui fare un bel regalo per caso li avete visti? siamo noi! ah sì? che cosa aspettiamo allora? andiamo! evviva! qui potete creare il vostro giocattolo speciale fatto su misura per voi selezionate quello che volete un robot una principessa un mostriciattolo oppure un dinosaurio! non sapevo che ti piacessero i dinosauri dinosauro! oh dinosauro! dinosauro! sì sì George adora i dinosauri sono i suoi giochi preferiti allora immagino che abbia già deciso divertetevi ottima scelta George bellissimo oh 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 un astronauta un mostro una super eroina Peppa e George adorano creare i loro giocattoli ma hanno gusti molto diversi tra loro il mio è un robot dinosauro wow fantastico ora con un pizzico di magia la macchina creerà i vostri giocattoli sì ora dovete scegliere i vestiti da mettere ai giocattoli ci sono tantissimi vestiti tra cui scegliere ma Peppa e George pensano che questi siano perfetti per i loro nuovi giocattoli evviva perfetto inseriamoli sì accidenti la macchina ha messo i vestiti sbagliati ai giocattoli oh la macchina ha invertito i vestiti signorina coniglio oh sì beh a me sembrano comunque divertenti e molto originali la 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 volare è bello aspettaci Peppa oh cos'è questo posto? questa è una macchina di giocattoli speciale dai mettetili al centro Peppa cosa sta facendo? oh oh stai ferma cos'è successo? ta da la macchina ha creato un giocattolo proprio uguale a Peppa guarda George sono piccola e questo sei tu Peppa e George adorano creare giocattoli nel negozio ma George ama anche essere un giocattolo oh cielo qualcuno ha rubato il mio cappello a fiori salve signora Dolly sono l'agente Teddy arrivato in soccorso Peppa e i suoi amici giocano a guardie ladri con i loro giocattoli non sono stata io io non ho fatto niente sono innocente sei tu il ladro signor robot ti dichiaro in arresto oh no adesso ti metto in prigione oh grazie agente Teddy a te ti piace fare il poliziotto ma non so più con cosa giocare adesso oh cielo prendo le macchinine adesso tutti i giocattoli si preparano per una gara ferma stai andando troppo veloce rannocchietta ti dichiaro in arresto oh oh bip 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 ma rannocchietta era in testa alla gara adesso il gufo di Susie sta servendo il tè ecco il suo tè signore il dinosauro di George nonno questo tè è troppo caldo ti dichiaro in arresto signora Dolly ma non mi piace la prigione e ora il dinosauro di George sta giocando tutto da solo dinosauro sei troppo disordinato ecco cosa sei ti dichiaro in arresto oh dinosauro è stato divertente a che cosa giochiamo adesso oh dove sono i vostri giocattoli oh cielo gli amici di Peppa non sono molto contenti non era nostra intenzione farvi arrabbiare cercavamo solo di aiutare forse dovremmo andare noi in prigione oppure in prigione non ci va nessuno e tu e l'agente Teddy potete aiutare gli altri proprio come fanno i veri poliziotti ogni giorno ottima idea mamma l'agente Teddy è al vostro servizio l'agente Teddy aiuta tutti quanti a gareggiare in sicurezza ai vostri posti pronti state molto attenti via a godersi una tazza di tè vorresti un'altra tazza di tè la nocchietta adesso non scotta più grazie agente Teddy e naturalmente a indossare tantissimi cappelli a fiori oggi Peppa e i suoi amici si stanno divertendo all'aria George che cosa succede George? ti sei fatto male oh vieni qui penso che molti rumori e tanto movimento siano troppo per George cerchiamo un posto tranquillo dove ritrovare la calma oh io so dove possiamo andare tutti vanno verso una zona speciale dove George potrà sentirsi meglio questi colori e le cose soffici mi aiutano quando non mi sento bene a farmi stare più tranquilla ottimo adesso proviamo tutti quanti insieme a fare qualche respiro profondo forza espiriamo ora lasciate che la mente si rilassi Susy Pecora e papà Pig sono molto rilassati George invece è ancora turbato oh guarda cosa c'è qui vuoi andare a vedere cosa c'è George? oh scusate stiamo andando via c'è un'altra aria piena di giochi molto particolari guardate qua è questo oh George guarda cosa faccio wow io preferisco la mia copertina morbida no no quest'area non mi sembra adatta per George mmm ho trovato seguitemi Peppa ha visto un altro posto che potrebbe piacere a George oh è l'area verde è come essere nella natura ma al coperto che buon profumo questi fiori eh 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 sentite gli uccellini ah a che espolle se che mi sento proprio bene molto molto rilassata vogliamo riprovare a fare dei respiri profondi di nuovo ci penso io papà forza ispiriamo espiriamo ispiriamo espiriamo sei più calmo adesso George è importante fermarsi un momento e riprendersi dopo aver esagerato a George piace l'aria verde possiamo restare ancora un po ma c'è nella zona della calma ci sono diversi modi per stare tranquilli a George piace l'aria verde ed è contento quando i suoi amici e la sua famiglia lo aiutano a riprendersi oggi George e papà pig solo al supermercato che bella escursione extraterrestre nel vuoto cosmico ma dov'è mamma pig doveva venirci a prendere in macchina mentre aspettiamo tanto vale approfittarne per fare un giro sul razzo e intanto faccio una telefonata peppa e mamma pig sono in viaggio verso il supermercato ma sono bloccate nel traffico via è come una giostra via ciao papà pig stiamo arrivando ma ci sono dei lavori in corso Giorgio, perché non proviamo le altre giostre mentre aspettiamo? Sì! Giorgio si diverte a saltare sulla giostra e Peppa si diverte a saltare in macchina Le giostre e l'auto fanno il girotondo Giro girotondo, giro girotondo Vanno su e giù Dino, saero! Finché finalmente... Oh, siamo arrivati! Sì! Finalmente! Ciao papà, ciao Giorgio! Ciao! Scusate il ritardo! Non c'è problema, Giorgio si è divertito molto a saltare, girare e sovvalzare sulle giostre Ma ora dobbiamo andare a casa, Giorgio Oh cielo! Giorgio non vuole andare a casa! Si sta divertendo troppo sulle giostre! Non preoccuparti, Giorgio! Il viaggio in macchina è altrettanto divertente! Puoi girare intorno Salcare! E sovvalzare! E sovvalzare! A Giorgio piace tornare a casa in macchina dal supermercato A tutti piace tornare a casa in macchina dal supermercato Signorina Coriglio! Aspetta, abbiamo altre lettere! Oggi Peppa e Giorgio giocano a fare i postini Hanno delle lettere molto speciali da inviare Salve! Devo consegnare quelle lettere? Sì, per favore! Sono lettere speciali per mamma e papà Pig Peppa e Giorgio hanno persino creato dei francobotti speciali Siete giusto in tempo per la raccolta di oggi Mettetele nella buca delle lettere Evviva! Ora posso portarle insieme a tutte le altre lettere Ho un bel po' di consegne da fare Vi andrei per invitarmi? Possiamo! Non vedo perché no! Avete l'uniforme giusta! Evviva! Peppa e Giorgio sono entusiasti di fare i postini Proprio come la signorina con me Per prima cosa vogliamo andare al centro di smistamento Qui è dove separiamo tutte le lettere Così sappiamo dove consegnarle Oh! 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 C'è tantissimo! Oh! Oh! Sì! Perciò abbiamo macchine come questa che ci aiutano Oh! 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 Dinosaur! Oh! Quelli sono francobotti speciali che Peppa e Giorgio hanno creato per le loro lettere, signor Zebra! Hanno la super super priorità! Abbiamo un'emergenza consegna! Codice rosa! Oh! Tutti si affrettano a preparare le lettere di Giorgio e Peppa per una consegna più rapida possibile Oh! Andiamo! Abbiamo un bel po' di tappe da fare! Oh! Peppa e Giorgio si divertono molto a fare le consegne con la signorina con me Alcune buche sono un po' troppo alte E altre hanno una forma strana Oh! Ah! Sì! Ma ogni lettera arriva al suo destinatario Finché non ne rimangono solo due Deve essere la posta! Vado io! Oh! Caspita! Questi postini hanno un aspetto familiare! Ma sono Peppa e Giorgio! Mi hanno aiutata a consegnare la posta tutto il giorno! Abbiamo delle lettere speciali con franco bolli molto particolari! Wow! Sono proprio... Peppa e Giorgio adorano fare i postini E mamma e papà Pig adorano le loro lettere speciali A presto mamma! Ciao! Papà Pig deve prendere una cosa in ufficio Così Peppa e Giorgio fanno con loro Scusi signor coniglio Giorgio adora i pulsanti dell'ascensore Oh cielo! A quanto pare l'ascensore si è rotto Non così Giorgio Non preoccuparti Giorgio Sono un esperto di ascensori Lo sai? I pulsanti dell'ascensore non funzionano Ciao! Benvenuti nell'ascensore E' un ascensore magico! No! Funziona a comando vocale Questo significa che dobbiamo dirgli dove vogliamo andare Molto facile! Salve ascensore Avremo bisogno di andare al mio ufficio Per favore L'ascensore funziona di nuovo Evviva! Secondo piano Ufficio alveare Ma non li ha portati nell'ufficio di papà Pig No! Non ufficio alveare Ufficio per favore Sesto piano Ufficio provole Adoro il formaggio Ho detto Ufficio Sedicesimo piano Ricciola Sei un ascensore monello L'ascensore sembra non capire la voce di papà Pig Ci provo io Ci porti dove papà ti ha detto Siamo in arrivo al tetto Non al tetto Dove papà ti ha detto Peppa e la sua famiglia continuano a provare e riprovare Ma l'ascensore magico li porta ai piani sbagliati Ciao! A piani paurosi Nessuno E a piani in cui si fa festa Ma nessun piano è quello giusto Finché È mio ufficio Ecco Si Ciao mamma Pig Abbiamo avuto un problemino con l'ascensore Torniamo subito Peppa e George adorano l'ascensore magico Siii! Ma papà Pig preferisce usare le scale Oh mamma Mi scappa forte forte la pipì mamma non ce la faccio proprio più tranquilla Peppa c'è un bagno proprio qui oggi Peppa ha bisogno di andare in bagno e questo è un bagno molto speciale e dov'è il water? oh Peppa non so proprio dove sia eccolo serve anche a te il bagno George? no ecco fatto e adesso mi lavo le mani fresche e pulite vediamo come mandare giù l'acqua il pulsante sembra questo Peppa per sbaglio ha acceso l'asciugamano forse era quest'altro o forse questo mamma per favore possiamo andare in bagno? è rimasto solo un pulsante da premere lo sciampone deve essere quest'altro ecco fatto senti George sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? no! benissimo andiamo allora mamma abbiamo fatto un disastro qui tranquilla questo è un bagno molto particolare l'unica cosa che dobbiamo fare è uscire e come per magia il bagno come per magia si pulisce da solo questo bagno è fantastico è fantastico Peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa oh ma George comincia a lamentarsi che succede George? devi andare in bagno? ma ci siamo appena stati in bagno va bene ci ritorniamo speriamo che tu possa resistere George ha proprio bisogno di quel fantastico bagno tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno oggi Peppa e la sua famiglia sono all'aeroporto stanno per andare in Spagna in aereo vengono tutti in Spagna con noi deve essere un aereo davvero enorme e ora dovrei dovrei andare? da questa parte il volo per la Spagna non temete la non pioverà allora andiamo passaporto e carta di barco hola signora vuol dire ciao in spagnolo hola non sapevo che parlasse spagnolo come sta signor Pig? papà Pig non parla spagnolo ma lo sta imparando con un'app calcettines no grazie ne ho già un paio non ci assomigli per niente mamma è una foto un po' bella ecco il passaporto di Teddy e di Dinosauro Dinosauro grazie ora controlliamo che i bagagli non siano troppo pesanti per l'aereo ciao ciao bagagli ciao ci vediamo in spagnolo adios oh no la valigia è troppo pesante dovrà togliere qualcosa per alleggerirla un po' dovrò trovare un posto per i cappelli Peppa e la sua famiglia sono arrivati ai controlli di sicurezza mettete i vostri oggetti nel passoio e poi procedete da questa parte e gli scanner controllano che non ci sia niente che non sia permesso portare in avione aereo si dice così ora potete passare insieme mi sono dimenticata questi scusi cos'è quello là? questo è un tappi rullano Peppa e George sono sul tappi rullano è un tappeto mobile che aiuta le persone ad arrivare più velocemente a destinazione ci sono tanti negozi e una poltrona per massaggi ora ci rilassiamo fino al momento della parolenza ultima chiamata per il volo per la Spagna dirigersi al game no l'aereo sta partendo Peppa adora andare in vacanza con la sua famiglia e adora divertirsi all'aeroporto consegna per mamma pig oggi mamma pig ha ricevuto un pacco oh grazie tante so esattamente di cosa si tratta Peppa e George saranno entusiasti mamma pig ha ordinato una macchina per ghiaccioli ed è è a forma di piggio ho pensato che potremmo usare la frutta del giardino dei nonni per fare dei ghiaccioli salutari e molto buoni salve signor pinguino come funzioni? adesso mi ricordo ne avevo uno alla tua età devi solo... mamma pig non si ricorda come funziona la macchina per i ghiaccioli forse è meglio leggere le istruzioni ah giusto ci serve del ghiaccio per fare i ghiaccioli il ghiaccio va qui e poi si gira questa manovetta si sente tritare adesso si tira su l'ana oh il ghiaccio è diventato soffice ora aggiungiamo la frutta lamponi li adoro poi versiamo la miscela di ghiaccio e lamponi negli stampi George ha i bastoncini serviranno per tenere in mano il ghiacciolo ben fatto George e ora dobbiamo solo aspettare che si congelino facciamo altri ghiaccioli mentre aspettiamo sì! mirtilli adoro anche questi e alla banana peppa e la sua famiglia passano la giornata a fare tantissimi ghiaccioli e divertendosi molto ma a un certo punto oh no! abbiamo finito la frutta! come facciamo adesso? si può! ho portato della frutta fresca del nostro giardino non è che per caso vi serve per qualche deliziosa ragione? mi dispiace ma non possiamo continuare a fare i ghiaccioli oh perché no? perché prima dobbiamo fare spazio in cridle mangiando intanto questi peppa adora fare i ghiaccioli soprattutto dei deliziosi ghiaccioli alla frutta oggi peppa e george fanno molto chiasso peppa perché non andate a giocare in salotto? potete usare questi foglietti adesivi per creare delle immagini grazie mamma! sì! così va meglio abbiamo finito mamma! che veloce... oh che belli! questa è la mamma e quest'altro è il papà e george ha fatto un... dinosaurio! ma è identico a me peppa fantastico! e questo sul pavimento? è una pozzanghera di fango! ecco! e cos'altro se no? però si può anche disegnare sui foglietti adesivi come gli indizi per una caccia al tesoro? io pensavo piuttosto a... andiamo george! è pronta! peppa e george hanno creato un percorso con i foglietti ma che bella idea! in fondo al percorso troverete un tesoro via! mamma e papà pig seguono il percorso per trovare il tesoro cercano nel letto di peppa nella vasca da bagno nel corridoio e alla fine... ma guarda! sono... dei... foglietti adesivi è un banchetto! sì! un banchetto! peppa e george hanno creato uova fritte zuppa di pomodoro e persino... ah! un toast allo zucchero filato usando solo foglietti perché non giocate a qualcos'altro mentre noi puliamo? mangiamo tutto questo cibo come travestirsi! va bene mamma! andiamo george! i piatti li laviamo dopo! questa l'ho già sentita! abbiamo mangiato tutto peppa! era delizioso! e noi ci siamo travestiti! peppa e george hanno usato i foglietti adesivi per creare costumi oh! beh! allora... io sono il grande mostro dei foglietti adesivi! oh no! e io sono il mostro dei foglietti adesivi ancora più grande! peppa e george adorano giocare con i foglietti adesivi ma soprattutto adorano giocare con mamma e papà pig luce rossa! peppa e i suoi amici giocano a scatta il rosso scatta il verde verde! se sentono dire rosso devono restare immobili e quando sentono verde possono ripartire rosso! fermi! peppa e i suoi amici si sono fermati all'incrocio le luci aiutano ad attraversare in sicurezza forza semaforo! non è sicuro attraversare finché la luce non diventa verde la luce è verde guardiamo ascoltiamo andiamo! verde! rose rosse ha detto rose rosse non luce rossa ora mamma pig papà pig fanno degli scherzi con parole diverse veramente bravi tutti quanti rosmarino no George dobbiamo stare fermi sei sicura? ho detto rosmarino non rosso mi gira la testa George non sa rispettare le regole non preoccuparti George ho un compito speciale per te ho un'idea al prossimo verde facciamo a chi arriva prima all'albero sì! verde rosso vai George il compito speciale di George è chiamato il giullare deve fare ridere tutti quando sono immobili me l'hai fatta sei un ottimo giullare George verde ci sono quali rosso salve a tutti che succede qui? salve agente panda giochiamo a scatta il rosso scatta il verde il mio gioco preferito rispettare le indicazioni del semaforo è molto importante anche le auto e le biciclette si fermano col rosso e ripartono col verde è una sfida restare immobili con questo piccoletto ciao! c'è una bella quiete quando sono immobili oh sì quasi quasi non dirò mai più verde di nuovo ha detto verde! Peppa adora giocare a scatta il rosso scatta il verde a tutti piace giocare a questo gioco chi è fuori è fuori chi è dentro è dentro oggi la famiglia di Peppa sta giocando a nascondino tocca a mamma pig a cercare ahah trovato oh no allora ti aiuterò a trovare Peppa e George adesso non ho proprio idea di dove possano essere proviamo in cucina dietro quella tazza di tè ce l'abbiamo fatta George a questo gioco siamo i più bravi Peppa e George stanno cercando un nuovo nascondiglio nascondiamoci nel ripostiglio sotto le scale questo sarà il nostro nascondiglio segreto oh papà pig ma dove si saranno nascosti? penso che non riusciremo mai a trovarli mamma e papà ci stanno cercando dappertutto dobbiamo solo continuare a cercare mamma pig li troveremo un biscotto? Peppa e George restano nascosti nel ripostiglio per un po' poi per un bel po' e poi per un altro bel po' secondo me non riusciranno mai a trovarci possiamo andare a prendere dei giochi così passiamo il tempo qui niente nemmeno qui non ci sono dove sono? cerchiamo continuiamo a cercare Peppa e George stanno prendendo un sacco di giochi per il loro nascondiglio uscite fuori ovunque voi siate oh e questa da dove è sbucata? papà pig tutto bene? beh perfetto toccava a te passare l'aspirapolvere ecco molto meglio dinosaurio dove pensi che siano Peppa e George? non sono sicuramente nel sottoscala Peppa e George a giocare a nascondino sono i migliori del mondo tutti amano giocare a nascondino e Peppa e George adorano il loro nascondiglio segreto oggi Peppa e George giocano a fare i ristoratori buonasera abbiamo una prenotazione al... ristorante il dinosauro verde signora mamma e signor papà ahà siete in ritardo da questa parte prego stanno preparando una cena romantica per mamma e papà avete fatto molta strada? beh... c'è un traffico terribile oggi sì il traffico era ecco il menù oh sembra delizioso credo che comincerò con l'insalata anche io per favore arriva subito George si sta dando da fare in cucina ottimo lavoro chef George devo dire che l'atmosfera è proprio rosa ecco qua due buonissime insalate giusto i miei complimenti al cuoco sì è squisita grazie Giorgio sta preparando il primo piatto gli spaghetti ciao chef George complimenti al cuoco è un quesito mi ricorda la cena che preparasti per uno dei nostri primi appuntamenti le mie insalate di plastilina sono leggendali gradireste una ballata romantica oh sì avete vieni George a Peppa e George piace molto suonare musica romantica soprattutto se ha volume molto alto evviva bravi bravi bravissimi vogliamo voglio dire bravi ben fatto George vi lasciamo a voi due sì un po' di pace ecco gli spaghetti buon appetito sì un po' di pace ecco il dessert il conto è duemila milioni di sterline per favore oh così poco grazie non c'è di che e grazie anche a te chef George e ora che cosa farete con tutti questi piatti oh no andiamo a nanna buonanotte signora mamma e signor papà corri ma sono solo le quattro e mezzo il ristorante dinosauro verde adesso è chiuso peppa e la sua famiglia stanno ordinando da mangiare in un negozio di panini peppa qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie ma si usano qui questi schermi speciali oh scusate perché non provi a ordinare un panino peppa oh puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini ho tanta tanta fame vorrei un panino super super grande per favore lattuga pomodoro e tanto formaggio peppa peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande capisco che tu abbia fame peppa ma forse ci hai messo troppo formaggio va bene ora tocca il comando invia così lo chef può iniziare gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto peppa e stanno lavorando per prepararlo sembra davvero buono e formaggioso ora tocca a georgio scegliere il suo panino guarda il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale sorpresa georgio non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa ora tocca a mamma pig di ordinare io ordino il solito ovodori funghi sei cipolle sott'aceto due pete di formaggio olive senza cetriolo metà peperone rosso e un pizzico di salsa piccante hai detto per caso cetriolo sorpresa sorpresa georgio sorpresa sorpresa georgio beh in fondo conoscere i nuovi sapori fa sempre bene peppa e georgio si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma è molto formaggioso dinosauro sorpresa sorpresa il panino di mamma pig è in preparazione è molto più grande di quanto pensasse mamma è pronto com'è grande non penso di riuscire a mangiarlo da sola ne volete un po'? è un pochino piccante ma molto gustoso è il mio nuovo panino preferito tutti amano il loro panino anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato ciao oggi peppa va a casa di rebecca coniglio ciao ciao oggi peppa è già arrivata a casa di rebecca coniglio è venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato il raccogliettore di carote ti va di giocare? sì grazie sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco santo cielo peppa non sa come inserire il cd sì in effetti sono molto brava a giocare con questo videogioco ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare rebecca oh sì lo sapevo come si fa prima scegli il tuo coniglio poi saltelli in giro e raccogli le carote oh sì peppa è incredibilmente brava con i videogiochi sì ma forse per questo ha bisogno di una mano e sai come si raccolgono le carote rebecca? guarda così evviva! adesso ho capito tocca a me rebecca coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco oh sei molto brava a raccogliere le carote rebecca ho solo fatto molta pratica ti va di giocare insieme adesso? possiamo formare una squadra? sì! presa! presa! ne ho una! sì! ecco nuovo record peppa e rebecca formano un'ottima squadra rosy! robbie! che state facendo? oh! ciao piccole! avete visto le gemelle? hanno preso il pranzo adesso ci pensiamo a noi siamo brave a raccogliere carote e piccole conigliette trovata! rosy! ti ho presa! robbie! ti ho presa! è ancora buona! peppa e rebecca sono molto brave a raccogliere carote siiii! evviva! il pranzo è salvo insomma peppa e rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote oggi peppa e george giocano nella sabbiera peppa gioca con delle macchinine giocattolo ha un'autopompa un'ambulanza un'escavatore e... george! dov'è la macchina della polizia? hanno perso la macchina della polizia mi dici dove l'hai messa george? macchina della polizia non preoccuparti la cerchiamo insieme sarà... ahà! un'avventura! avventura! peppa e george fanno finta di essere in un grande deserto di sabbia prendiamo l'autopompa peppa e george iniziano a cercare con la loro autopompa anche io beviamo qualcosa per fortuna la pompa è piena di succo d'arancia peppa e george amano il succo d'arancia andiamo non abbiamo ancora trovato la macchina della polizia forse è là sembra proprio così macchina polizia sapevo che l'avremmo trovata sì! ora dobbiamo solo tirarla fuori bip 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 così ci metteremo un sacco di tempo dove stai andando george? è diventato un gigante peppa e george hanno trovato la macchina della polizia qui mirano nilino minoli pip 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 bip cap ehi dov'è l'escavatore george? ooo other interesting ma sembra che dovranno partire per una nuova avventura per trovare l'escavatore il treno dei tesori sta arrivando peppa pig e danny cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro di argento e... broccoli! i broccoli sono preziosi? sì, sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti peppa e danny non stanno davvero guidando il treno stanno usando la loro immaginazione per giocare urrà! fermi! in nome dei... ladri! oh no! pedro, pony e susy pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori ridateci subito tutto il vostro tesoro per favore no! oh, va bene siete voi che dovete rubare il tesoro, Susy siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro adesso che cosa facciamo? potete scappare oh, giusto! andiamo! yoohoo! ehi, tornate qui, ladri cattivi! ora, peppa e danny fingono di essere dei poliziotti cattureranno i due ladri sì! oh, ci avete acciuffato? no, invece no perché... la vostra barca può volare madame gazzella, le barche possono volare? le barche vere non possono volare ma quelle immaginarie ci riescono e come? è viva! è viva! ora, Pedro e Susy sono su una barca volante oh, ehm... ah, sì! anche il nostro treno può volare! la poliziotta Peppa e il poliziotto Danny hanno quasi catturato i ladri si torna a casa! oh, è un gigante! no, lui è papà Pig ed è venuto per portarti a casa carica! brava, 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 brava cosa state facendo? stiamo guidando delle barche e dei treni volanti, papà oh, accidenti! quanta immaginazione avete! Peppa adora usare l'immaginazione tutti adorano usare l'immaginazione ciao, bambini! avete tutti quanti una maglietta a maniche corte? oggi Peppa e i suoi compagni d'asilo imparano a creare magliette tie-dye ma cos'è il tie-dye, madame Gazella? il tie-dye è una tecnica speciale per tingere le magliette si usa per creare disegni coloratissimi come questo oh, avevo capito che avremmo tinto cravate questa è di mio nonno oh, non preoccuparti Danny basta che sia un tessuto la tua sarà una cravatta dai-dye prepariamoci! Peppa e i suoi amici indossano guanti, occhiali e un grembiule prima di cominciare innanzitutto si aggiunge qualche goccia del colore scelto all'acqua il tie-dye ha una tecnica particolare per tingere il tessuto potete usare il colore che volete ma ne bastano solo poche gocce tadaaa! per la mia maglietta userò il rosso il blu e il giallo portano il verde la mia cravatta diventerà rosa un bellissimo rosa io voglio fare una maglietta color arcobaleno i colori si sono mescolati creando un marrone fango non un arcobaleno nessun problema Gerald il colore arcobaleno si può creare immergendo la maglietta in colori diversi separatamente allora posso farla anche io color arcobaleno come no! è quello che faremo tutti quanti prima strizzate bene la maglietta e poi annodatela con gli elastici in questo modo la strizzo e... dopo aver messo gli elastici e siete pronti è ora della pintura poco alla volta così tutti si divertono a immergere le magliette nei diversi colori ora sembra un arcobaleno Peppa, senza volerlo, ha macchiato il grembiule con i colori a questo servono i grembiuli per proteggere i vestiti diciamo altre cose come le tende o le sedie ho la tua borsa limitiamoci alle magliette e... alle cravate per adesso è ora di metterle ad asciugare così potrete portarle a casa e all'uscita le magliette sono pronte è un arcobaleno oh oh ma è davvero fantastico e il mio ha una puzzanghera sotto guarda questa è una cravatta rossa tie-dye tutta per te a tutti piace creare magliette tie-dye e a tutti piace anche indossare andiamo squadra supermercato io ho preso il carrello io ho la lista della spesa dinosaurio e viva! oggi Peppa e la sua fanuglia sono al supermercato mamma perché non ci fermiamo mai? e perché la tua borsa fa questo rumore? eccoci arrivati oh oggi facciamo la spesa in una parte speciale del supermercato il reparto sfusi ma dove mettiamo il cibo che compriamo? aha in questi nel reparto sfusi le persone portano i loro contenitori e li riempiono con il cibo bene squadra io e papà leggiamo la lista Peppa e George voi riempite i contenitori pronti? sì sì una volta finito il premio sarà il pranzo sì la prima cosa da prendere è il riso trovato George ci serve un contenitore per il riso quello è per le uova George oh cielo Peppa e George hanno messo il riso nella scatola delle uova che altro? oh adesso i cereali quella non è la bottiglia del latte? è perfetta George ne sono caduti pochissimi grazie per aver pulito dinosauro ora abbiamo il latte la bottiglia del latte è già stata usata per i cereali quindi nessuno sa dove mettere il latte George pensa che dovrebbero usare il peccone del succo ottima idea George e poi ora c'è il succo d'arancia ma Peppa e George hanno messo il latte nel cartone del succo usa la busta per il riso George ora ci manca solo la pasta vai questa settimana mangeremo un sacco di pasta ora devono portare tutto il cibo alla cassa e pagare oh quante cose avete preso allora abbiamo una scatola per uova di riso una bottiglia di cereali un cartone di latte un sacchetto di pasta e una busta di succo d'arancia il solito insomma dinosauro il dinosauro di George ha mangiato dei cereali da terra ciao a tutti quanti è molto molto bello essere una regina oggi Peppa fa finta di essere una regina con una torre tutta sua Peppa l'ha costruita con i mattoncini oh salve sua maestà che torre meravigliosa oh e che belle papere George la mia torre è molto molto alta così io posso vedere tutto quello che fanno gli altri no la torre no George nel mio gioco non ci sono papere giganti forse potresti invitare George a giocare Peppa è divertente giocare insieme ok George possiamo giocare alle costruzioni e riparare il castello che hai distrutto un po' a sinistra ora a destra ai suoi ordini sua maestà una papera no laggiù una papera gigante guardate ah 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 George guarda qua attento con le papere George il castello di mattoncini non è fatto per le papere io con te non ci voglio giocare mai più spero tu non dica sul serio Peppa sì mai più io sono la regina dei mattoncini e le regine giocano quello che vogliono la regina Peppa gioca a molti giochi ma da sola non c'è divertimento non è molto bello essere una regina da sola oh cosa succede? oh cielo papà Pig sta passando l'aspirapolvere e il pavimento trema oh no la mia torre finirà per crollare una papera gigante George sei venuto a salvare il castello oh mi scusi signora papera mi scusi sua maestà ripasso più tardi hai salvato la mia torre George tu e le tue papere volete giocare con me? a Peppa piace giocare ma soprattutto le piace giocare con George oggi il signor toro sta facendo dei lavori all'asilo cosa sta facendo signor toro? sto costruendo un nuovo vialetto Peppa ma proprio come noi esatto anche noi siamo operai operai? oh certo ma davvero? allora dovete indossare questi sto costruendo un nuovo vialetto Peppa e i suoi amici stanno giocando a fare gli operai come il signor toro allora mi metto all'opera come si costruisce un vialetto Peppa? è facile non lo so come si costruisce un vialetto signor toro? beh per prima cosa bisogna stellare il terreno con l'escavatore Peppa ah già dobbiamo stellare il terreno con lo sbaffatore scavo 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 qua e là scavo 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 con celerità scava 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 qua e là scava 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 che felicità e ora che sta facendo signor toro? preparo il calcestruzzo Peppa per riempire questa buca visto? un nuovo vialetto è fatto con un materiale molto resistente chiamato calcestruzzo oh certo anche noi prepariamo il calcestruzzo oh d'accordo aha eccolo qua il calcestruzzo di Peppa è fatto di sabbia bagnata e ora signor toro? ora arriva la parte migliore Peppa la pausa per un tè eh già una pausa la facciamo anche noi hai visto la partita ieri sera? ho visto tutte le partite ieri sera quando il calcestruzzo si è asciugato è il momento di spianarlo cos'è quello signor toro? è un rullo compressore Peppa serve a spianare il calcestruzzo noi non abbiamo un rullo compressore Peppa aha possiamo usare i nostri piedi ma che cosa state facendo Peppa? la cosa più importante signor toro sentiamo ah sì ma certo c'è posto anche per me a Peppa piace saltare sulla sabbia bagnata tutti adorano saltare sulla sabbia bagnata